2, 1, vai! Buongiorno a tutti, rispondo a una domanda che mi è stata posta, quindi il significato di quest'opera. Quest'opera, come possiamo vedere e leggere, si chiama Attanticevica Luna. In effettiva potrebbe essere un'ipotesi, ma è una certezza. Questa luna vista, desiderata, amata orgasmicamente da questo grande cosmo e da questo grande cuore che è il nostro. Chiunque noi poeti, scrittori, amanti ci siamo rivolti ad essa per qualsiasi tipo di desiderio. Ma il concetto spaziale di questa opera non è solo questo, ma è altro. Ecco, noi qui abbiamo la Terra, qui abbiamo la Luna e qui abbiamo questo meraviglioso albero che non è solo l'albero della vita, è l'albero che ha significato. Ma è ancora più significativo perché? Perché se noi facciamo un pensiero, una riflessione, qui abbiamo delle radici. E se noi ci domandiamo, ma se poi non la Terra, questa è la Luna, questo è l'albero, noi dove siamo? Siamo il pianeta della nostra fantasia. Grazie.